Ciao, sono Fildi del FAI. Nel video di oggi vedremo una normale sostituzione delle pastiglie freno posteriori, ma con una piccola differenza. Questa Skoda Octavia del 2021 è protetta da quello che è conosciuto come SGV o Security Gateway. L'SGV è diventato comune intorno al 2017 e ha avuto inizio con il gruppo FCA. Fondamentalmente, l'SGV blocca tutto l'accesso in scrittura all'auto. Questo avviene in diversi livelli a seconda del marchio. Quindi è consentita la lettura dei codici errore e dei dati in tempo reale. Ma ogni volta che si vuole inviare comandi al veicolo, come cancellare i codici errore o attivare funzioni, come arretrare le pinze posteriori, allora questo viene bloccato dall'SGV. Su questi veicoli, quello che dovrai fare è sbloccare l'SGV utilizzando un sistema di autenticazione, dopodiché eseguire il lavoro come faresti normalmente. Quello che faremo è collegarci all'auto e ti guiderò attraverso il processo di sblocco dell'SGV per ritrarre le pastiglie. Quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è collegare la BSI all'auto. Dopo ci connetteremo all'unità frenante. Aggiungo dettagli veicolo. Questa è una Skoda Octavia del 2021. Inoltre, utilizzerò la nuova funzione di ricerca rapida di Delphi. Ciò significa che, invece di entrare nell'unità frenante e attivare la funzione, possiamo semplicemente scorrere il menu. Andrò alla sezione Freni e troveremo la funzione per arretrare i pistoncini. Si chiama Arretramento pistoni prima del servizio e, quando lo seleziono, mi comunicherà automaticamente che fa parte del modulo ABS. Un file di aiuto ci guida attraverso il processo. Una volta pronto, premerò Start. Ora si connetterà al modulo ABS. Riceveremo anche un avviso che ci ricorda che, per certe operazioni, dobbiamo aprire il cofano. Quindi lo andremo ad aprire. Premiamo OK. Ora siamo connessi al sistema. Premiamo Avvia sull'adattamento e, subito, ci viene presentato un menu del Gateway. Questo significa che dobbiamo entrare nel nostro account per poter sbloccare l'SGV. Una rapida spiegazione su come funziona. Fondamentalmente, ti registri una volta con Delphi. Automaticamente, verrai registrato per tutti gli altri brand e non avrai bisogno di altre password. Basta utilizzare nome utente e password di Delphi e funzionerà per tutti i brand. Abbiamo ad esempio i gruppo Volkswagen, Polestar, Mercedes, i gruppo FCA e molti altri. Inserisco nome utente e password. Apparirà poi un messaggio di conferma dello sblocco, dopodiché sentiremo il motorino del freno a mano ritrarsi. Stiamo per ottenere l'autenticazione. Come puoi vedere sullo schermo, lo sblocco è in corso. Ora abbiamo sbloccato l'SGV. Possiamo procedere come se fosse un lavoro normale. Quindi, dobbiamo solo disattivare il freno di stazionamento premendo il pulsante all'interno del veicolo. Dopo, premeremo OK. Possiamo sentire le pinze che si ritirano. Con le pinze in posizione di servizio, possiamo sollevare l'auto, rimuovere le ruote e sostituire le pastiglie come faremmo in un veicolo normale. Ora abbiamo completato il lavoro sui freni posteriori. Si deve rimuovere il veicolo dalla funzione di servizio e riportarlo alla condizione di uso normale. Lo faremo utilizzando ancora il software. A volte il gateway rimarrà sbloccato, ma questo dipende un po' da marca a marca. Alcuni lo fanno in base al tempo, altri in base al ciclo di accensione. Se hai aspettato troppo a lungo o hai attivato l'accensione, dovrai ripetere lo sblocco per eseguire la funzione corretta, che è riportare i pistoni alla posizione di uso normale. Quindi selezionerò la funzione sposta pistoni in avanti ed eseguiremo la procedura. Stai per sentire il freno a mano elettronico tornare alla sua posizione normale. Molto bene, le pastiglie dei freni posteriori sono tornate nella loro posizione corretta. Clicca ok e la funzione è ora completata. Grazie per averci seguito. Ora, un rapido promemoria. Se il veicolo ha l'SGV, lo strumento ti chiederà sempre di inserire i tuoi dati quando esegui una funzione. Perché non seguirci sui social o visitare il portale online Masters of Motion? E per altri corsi, dai un'occhiata alla Delphi Academy. Grazie per averci seguito.